Musica Duro colpo alle organizzazioni criminali dello spaccio siracusano. Sono state rinvenute numerose armi, rimossi, cancelli abusivi, arrestate due persone e sequestrate molte dosi di droga. Gli agenti della squadra mobile delle volanti su delega della procura della Repubblica hanno rimosso di nuovo cancelli, portoni e grate in metallo collocati in un androne condominale sito in via Italia 103, adibito a vero e proprio supermarket dello spaccio. Gli agenti si sono messi poi all'inseguimento di un uomo che, vistosi scoperto, ha cercato di fuggire sul terrazzo, ma l'uomo non trovando via di fuga ha cercato di lanciare un marsupio dove all'interno erano contenuti 50 dosi di cocaina, 93 dosi di ascice, 13 dosi di marijuana, oltre a circa 1.600 euro, un bilancino di precisione, bario materiale per il confezionamento della droga e un candelotto esplosivo di genere vietato. L'uomo è violante, Sebastiano Valentino, di 37 anni, appunto bloccati. La droga sequestrato avrebbe, immessa sul mercato, fruttato 1.200 euro per la cocaina, 600 euro per l'ascice e 100 euro per la marijuana. Lungo le scale del condominio e sulla terrazza, peraltro, è stato trovato un arsenale di armi disseminato in più punti, tre pistole semi-automatiche, un fucile con canne mozze e con relativo munizionamento, altre armi con matricola a brase o costruite artigianalmente, pertanto da considerarsi armi clandestine. Gli investigatori della Polizia, inoltre, nel proseguo dell'operazione svolta nel quartiere della Mazzarrona, hanno notato un continuo antirivieni di persone che si recavano presso un condominio fornito di telecamere. Hanno sorpreso Barbiera Salvatore, 34 anni, posta agli arresti domiciliari, intento a cedere cocaina ad un assuntore. Nell'immobile c'era anche un monitor collegato ad un articolato sistema di videosorveglianza esterno. Sequestrati dosi di cocaina occultate all'interno di uno scarico del water nel condotto fognario è 280 euro. Ultimo report per la regione siciliana per i nuovi contagi da coronavirus è del domenica 28 febbraio e riporta 453 nuovi positivi rispetto alle prime precedenti 24 ore. Per la provincia di Siracusa sono 41 nuovi casi, ancora i decessi, 21 in tutta l'isola, mentre per quanto riguarda le dosi di vaccino complessivamente inoculate nella regione siciliana sono 335.611. intanto nell'Omusumeci firma la proroga dell'ordinanza, arresto nei controlli per chi arriva in Sicilia. Il provvedimento resterà in vigore fino al venerdì 5 marzo. Coloro che arriveranno nell'isola sono tenuti a registrarsi sull'apposita piattaforma siciliacoronavirus.it. Vengono mantenuti operativi tutti i punti di controllo e drive-in per l'esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso nell'isola. Prosegue al ritmo di 280 prime dose al giorno in provincia di Siracusa la vaccinazione anti-covid agli over 80 e il completamento delle categorie prioritarie sia per la prima dose che per la seconda. Sono state somministrate fine settimana scorsa anche il vaccino AstraZeneca al personale scolastico docente e non docente under 55 nelle scuole statale. Una complessa e articolata macchina organizzativa, dice il direttore generale dell'ASP Ficarra, con il reperimento di centinaia di unità di personale di vari profili, sanitari, medici, infermieri, psicologi, amministrativi e informatici appositamente formato, l'incremento delle USCA e l'allestimento di squadre operative strutturate adatte allo scopo. Vaccinazioni seguiti negli ospedali di Siracusa, Avola, Lentini e Augusta, dove sono state impegnate dal 20 febbraio scorso sette postazioni per le categorie protette come gli ultraottantenni. Per la vaccinazione il personale scolastico, con la programmazione di almeno 40 vaccinazioni al giorno per postazione, sono state allestite a Siracusa nella sede del PTE 118 diretto da Caruso, nell'area ex ONP di Contrada Pizzuta, del SEMPE, della Radiologia dell'ospedale Umberto I, ad Augusta, Melilli, Sortino e Lentini e nei prossimi giorni anche in altri comuni, con un calendario organizzato per tutta la settimana, mentre è già partita in piena collaborazione anche la vaccinazione delle forze armate di polizia. Le procedure per la prenotazione sono analoghe a quelle già in atto per la popolazione over 80 attraverso la piattaforma della struttura commissariale nazionale gestita da poste italiane prenotazione.vaccinocovid.gov.it o mediante il portale siciliacoronavirus.it oppure si può accedere tramite numero verde 800 00 99 66 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. È iniziata stamattina l'installazione di 40 dispenser con ciotoli per le colonie feline della città in supporto al lavoro dei volontari che le nutrono quotidianamente. Un'iniziativa che viene raccontata da Francesco Italia, sindaco di Siracusa, è curata dall'assessorato al randagismo che coinvolgerà tutto il territorio comunale. Invitiamo i cittadini a non mettere cibo nelle ciotole perché non requerebbe un ulteriore beneficio agli animali. Si ringrazia l'assessore Burti per l'impegno profuso nella realizzazione di un progetto che unisce la tutela dei gatti ad un maggior decoro urbano nelle strade di Siracusa. Una complessa ricerca del semiologo storico Salvo Sequenzia fa luce sulla storia della prima casa di Floridia ubicata in via Roma nel centro storico cittadino e sullo stemma posto nella parete sinistra della sua facciata. I dettagli messi a luce della ricerca li abbiamo richiesti direttamente al professor Salvo Sequenzia. In effetti abbiamo fatto luce su una vicenda importante per la storia della nostra comunità che è relativa alla cosiddetta casa di fondazione di via Roma. La storiografia locale ha sostenuto nel corso degli studi che la casa fosse risalente alla concessione della licenzia Populandi concessa al barone feudatorio di Floridia Don Lucio Bonanno Colonna nel 1627 con un degreto del vice governatore della Sicilia datato 31 marzo 1627. In effetti abbiamo oppurato ben altro. La storiografia ha compiuto una sorta di ricezione della convinzione della tradizione locale senza mettere al vaglio le fonti di riferimento. In effetti noi siamo convinti che la casa risalga al post terremoto che sconvolse la Val di Noto nel 1693 in quanto le fonti ci raccontano, le fonti cueve, ci raccontano che Floridia fu rasa totalmente al suolo come apprendiamo da storici locali come il mongitore e l'amico e come apprendiamo dagli stessi reggesti dei governatori della Sicilia che fecero il censimento post-sisma e anche dagli archivi parrocchiali dove viene scritto testualmente che Xlidia tota e versa est fu rasa totalmente al suolo per cui la casa che abbiamo di fronte non può risalire al 1627 data di fondazione del borgo bensì a dopo il sisma. Sequenzia per la sua ricerca ha utilizzato la metodologia del cross-examination tipica dell'indagine giuridico-investigativa che consiste nel confronto e nel contresame delle fonti storiche così come lui spiega. Il metodo che abbiamo applicato a questa ricerca appartiene a un campo disciplinare diverso che è quello della semiologia e dell'indagine investigativa che negli anni 80 Umberto Eco portò proprio qui in Italia e grazie allo storico Carlo Ginz pubblico poi è divenuta una metodologia consueta nel vaglio delle fonti. Abbiamo sottoposto a un controesame le fonti storiche come il Curcio e il Guardo e siamo risaliti attraverso il confronto con altre fonti storiografiche ad accertare la verità dei fatti. Ma in questo ci è venuto anche, come direi, in aiuto, la presenza dello stemma che abbiamo nella facciata qui della Casa di Fondazione nel senso che lo stemma ci racconta due storie. La storiografia locale sosteneva che lo stemma rappresentasse il casato dei Buonanno con il celebre gatto nero passante. Invece non è così. Una ricognizione epigrafica ci attesta che lo stemma rappresenta un Agnus Pasquale, un Agnus Pasquale, ed era uno stemma di uno dei primi ordini cavallereschi che erano sorti in Sicilia nel 1088 per concessione di Ruggero I il Conquistatore e che appunto il primo feudatario di Xiridia, Gildi Asien, il Cavaliere Navarese, fu il segnino di tale onorificenza. Non soltanto, ma un'altra cosa importante, abbiamo rilevato che lo stemma è costituito da due parti cronologicamente diverse e diverse sono le mani che lo hanno eseguito. Una mano colta, che possiamo rinvenire nella prima parte dello stemma che reca l'effigie, e la seconda mano, una mano più rossa, che ha scritto l'epigrafe, non in corretto latino o comunque non nello stile ordinario epigrafico. Lo stesso sequenzia dice che la casa e lo stemma, oggi poco valorizzati e la stessa ricerca eseguita, rivestono un valore storico importantissimo. Gli abbiamo chiesto il perché. Allora, l'importanza di questa ricerca è duplice. Da un lato siamo riusciti a capire come ancora ci sia tanto da studiare e da scoprire sulla storia locale attraverso un vaglio più approfondito delle fonti e delle testimonianze del nostro territorio, che è ricchissimo di testimonianze storiche inesplorate. Dall'altro abbiamo compreso un fatto importante come per la storia della mentalità della nostra comunità un luogo del genere sia prezioso, non soltanto per lo straordinario carattere del reperto archeologico che abbiamo rinvenuto, ma anche e soprattutto perché testimonia le origini e già nella mentalità del tempo questo luogo era ritenuto luogo storico.